Arriva sabato 26 dicembre su Rossini TV il primo appuntamento con Pesaro Music Story Live, concerto andato in scena nell'estate del 2017 che ha avuto come protagonisti alcuni tra i più importanti artisti pesaresi degli anni 60, 70 e 80. Organizzatore dell'evento Paolo Casisa, autore dell'omonimo volume da cui è partita l'idea per realizzare lo spettacolo. Il 19 luglio del 2017, grazie all'assessorata alla cultura del comune di Pesaro, sono riuscito ad organizzare un lungo concerto in cui si sono esibiti alcuni dei più importanti gruppi musicali pesaresi degli anni 60, 70 e 80. È stato veramente molto bello, un evento unico e irripetibile, non si potrà rifare. In quell'occasione c'era una telecamera che ha filmato per oltre quattro ore il concerto. Purtroppo quel video, per tante cose che sono accadute, è rimasto dentro un cassetto per tre anni. Ma adesso finalmente riemerge e per la prima volta può essere visibile anche ai musicisti stessi che sono stati i protagonisti. Il concerto inizia al tramonto, introdotto dall'assessore Daniele Vimini che dal palco assiste alla performance di Peppe Consolmagno e continua fino a notte fonda con, nell'ordine, le esibizioni dei track, gli Hot Five Ritman Blues Band, poi ha suonato La Rinascita, i TNT, gli Stigma Rea, gli AV Gerenia e i Log. La messa in onda del concerto avverrà in otto puntate di sabato sera alle ore 21. Si mostrerà un'esibizione alla settimana. Si comincia con Peppe Consolmagno e nelle settimane successive a seguire tutti gli altri.